Benvenuti, finalmente, dopo tanto tempo, sui racconti secondo Gio. Bentornati in questa rubrica dove io vado a leggere periodicamente una raccolta di racconti, dopodiché la classifico commentando le motivazioni, a volte, per il quale ho dato un determinato voto. Questa volta, come vi avevo annunciato tempo fa, ho deciso di leggere, finalmente, lo aspettavo da tantissimo tempo, Storie della buonanotte per bambine ribelli 2 di Elena Favilli e Francesca Cavallo. Avevo ovviamente già letto anche la prima raccolta e ve la lascio qua sopra in Ippobox nella sua recensione per books review. Questa volta, anziché fare una books review, ho deciso di analizzare le singole storie, Ma per evitare casini, perché io so già che alcuni non saranno molto d'accordo con il mio criterio di valutazione, passo a fare una piccola premessa. Non si tratta di racconti fiabeschi, non si tratta né di fiabe né di favole, né di racconti a sé. Di conseguenza, non potevo definire un racconto migliore di un altro, perché si tratta di mini biografie in sostanza, quindi avrei dovuto praticamente svalorizzare le storie di alcune donne rispetto ad altre. Quindi, come criterio di valutazione, ho tenuto semplicemente una sorta di empatia nei confronti della mia storia, dei miei obiettivi, di quello che mi ha proprio suscitato empatia, appunto. Quindi l'emozione interna nel leggere la storia. Alcune storie, ammetto che quelle che hanno ottenuto le valutazioni migliori, mi sono fatta guidare proprio dal cuore, quindi da emozione di leggere proprio la loro storia. Ci sono alcune storie che mi hanno commossa addirittura. Altri, invece, mi sono ritrovata meno empatica, ma questo per gli obiettivi che ho nella mia vita, per ciò che mi fa empatizzare con l'altra persona, gli obiettivi meno comuni, insomma. Questo, spero di essermi spiegata bene, è un po' il criterio di valutazione che ho ottenuto, perché mi sentivo male all'idea di dover classificare delle donne come migliori e altre come peggiori. Quindi, ecco, spero che questa cosa vi sia gradita. Io direi di partire, partiamo dal basso, quindi ho utilizzato la solita classifica, da 1 a 5 per evitare troppi pasticci. Comunque, le donne che ho scelto per ogni votazione hanno delle cose in comune che adesso andremo a vedere. Non andremo a vedere le singole donne, questo anche per non farvi spoiler, diciamo, però all'occorrenza andrò ad analizzare una storia o tutte le storie, insomma. Me la gestirò un po' così, è un po' un esperimento, poi mi farete sapere nei commenti se vi può piacere come cosa. Partiamo quindi dalla votazione più bassa, ovvero 1, non sono andata sotto l'1 perché sarebbe stato veramente troppo un casino. Comunque, abbiamo la destratrice di Aquile, Aishelfan Nurgaiv, non so se la pronuncio è giusta, la piratessa Anne Bonny, la cantante Silvia Cruz, la pittrice Georgia O'Keeffe, la governante ed esploratrice Jean Barret, la zoologa Johanne Beauchamp-Procte, la vulcanologa Katia Kraft, la scalatrice estrema Luo Demping, l'esploratrice Mary Kingsley, la signora feudale Matilde di Canossa, la cantante e cantautrice Selda Batkan, la skater Sky Brown, la tennista Steffi Graff e infine la cosmonauta Valentina Terescova. Queste donne hanno tutte delle storie meravigliose, ma hanno ottenuto la votazione 1 perché per me, per la mia storia, non sono riuscita a empatizzare tanto con loro in quanto semplicemente loro hanno iniziato da piccole una passione o comunque le storie che le hanno coinvolte, le hanno portate a perseguire una passione e diciamo che non c'era una legge piuttosto che un pregiudizio per il quale loro non potessero farlo, semplicemente loro si erano messi in testa forse anche per una condizione familiare o cose del genere di non poterlo fare e quindi sono state ricordate nella storia per averlo fatto. Hanno comunque costruito delle carriere pazzesche, ma tutto era perché erano tra virgolette facilitate da una situazione personale. Questo prendetelo con le pinze perché questo è quello che mi è passato forse anche per la stesura del racconto favolistico in sé perché penso che magari dietro a queste storie ci fosse molto di più. Sono stati ovviamente presi solo i tratti salienti delle loro biografie, quindi ecco, magari anche dovuto a questo. Comunque non sono riuscita a empatizzare tanto con queste donne che per quanto siano così diverse hanno fatto delle cose che non penso che dovessero essere ricordate, ecco, però ogni donna va ricordata per qualche cosa, ogni essere umano andrebbe ricordato per qualche cosa. Con il voto 1,5 appena più sopra invece ho inserito La chimica Alice Ball, la neuropsicologa Brenna Miller, l'imprenditrice Madame CJ Walker, la modella Kudia Diop, la aviatrice Lilian Blend, la golfista Lorena Okshoa, la vigilessa del fuoco Sarinia Srisakul, la graffitista Shamsia Hassani, l'astronoma Valerie Thomas e infine la fotografa Vivian Meyer. Il concetto è lo stesso del punto 1, quindi non ho empatizzato particolarmente con le loro storie, forse anche perché molte di loro fanno parte di mondi che sono lontanissimi dal mio, come l'ambito scientifico, la fotografia, l'essere una modella, qualche sportiva, i graffiti, insomma, sono tutte cose molto lontane dai miei interessi. Ma a differenza di quelle precedenti c'è un che in più, ovvero una modalità appunto di scrittura, quindi anche qua l'ambito stilistico proprio della scrittura gioca a favore di queste donne, perché le loro storie sono scritte in modo e maniera che mi sono entrate in qualche modo nel cuore, anche se a livello empatico non le trovo così vicine alla mia storia, però devo dire che le ho trovate effettivamente piuttosto emozionanti come storie, cioè ci stava, c'era quel qui in più, nello stile che mi ha fatto empatizzare un pochino di più con la loro storia e mi ha fatto sorridere in un certo senso. Per esempio di queste, quella che mi ha colpito di più è quella di Vivian Meyer, la fotografa, che ha fotografato mille cose in tutta la sua vita, dettagli, ma non ha mai pubblicato le sue foto ed è diventata famosa ovviamente dopo la sua dipartita. Insomma, ci sono alcuni aspetti di queste storie come in questa che non mi fanno molto empatizzare, ma perché per esempio Vivian Meyer avrebbe potuto nella sua vita provare a lanciarsi nel mondo della fotografia e invece non l'ha mai fatto. È stato un caso che le sue foto siano uscite, ecco. Un po' il discorso è questo, chi per fortuna, chi per lotta strenua e via dicendo, però dalle storie comunque non si evince questa gran lotta per l'indipendenza nel loro ambito, quindi con due punti abbiamo in classifica la rivoluzionaria Anita Garibaldi, la regina budicca, la storyteller e attivista Clementine Wamaria, l'attivista per la pace Laima Bowie, la calciatrice Marta Vieira De Silva, l'oratrice Hortensia, l'ambientalista Rachel Carson e l'attrice Sofia Loren. Hanno ottenuto due punti perché non mi sono trovata particolarmente empatica, ma più rispetto alle donne che abbiamo visto nelle precedenti categorie, perché queste donne hanno comunque combattuto in politica, hanno combattuto in maniera di attivismo, anche attraverso le loro passioni, comunque si sono sempre fatte valere in quanto donne, questo io glielo devo assolutamente. La cosa che mi è piaciuta un po' meno, non so se per un discorso stilistico o proprio di biografia, onestamente non sono andata a vedere le singole biografie di queste donne, ma mi sono rifatta semplicemente a queste storie, è il fatto che è come se fossero arrivate a un punto di progresso nella loro lotta personale e dopodiché si fossero adattate lì senza continuare a cercare di progredire. In più le cose che hanno fatto loro per la storia, a parte le attiviste che comunque forse lì è più per un discorso stilistico, ma per la storia non hanno fatto delle cose eccessive, hanno combattuto delle loro piccole lotte, glielo si deve riconoscere chiaramente, però ecco ho empatizzato poco con loro perché mi sono sentita come abbandonata, tra virgolette, cioè a un certo punto loro hanno deciso di fermarsi per qualche ragione, insomma questa è un po' la mia valutazione per il punto 2 e ripeto spero di non offendere nessuno. Con due punti e mezzo abbiamo, quasi a metà classifica, le guardie forestali Black Mambas, la pianista e compositrice Clara Schumann, l'architetta e designer Gaia Aulenti, le informatiche Catherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson, la portalettere Mary Fields, la conduttrice TV, attrice e donna d'affari Oprah Winfrey, la collezionista d'opere d'arte Peggy Luggenheim, l'astrofisica Sarah Seeger, l'attivista Sophie Scholl e l'attivista Ionmi Park. Queste donne si trovano a metà della nostra classifica, perché pur non essendomi trovata molto empatica, lo stile ha salvato queste storie, perché mi sono ritrovata molto nelle citazioni che hanno voluto inserire a fianco a queste storie, insomma, avevano un qui in più, ancora di più un qui in più, per farmi apprezzare le loro storie, sia per un fattore stilistico, sia per un fattore di interesse, proprio nei confronti della loro storia, per le scoperte che hanno fatto, per le lotte che hanno combattuto. Non ci sono né alti né bassi nelle loro storie, però sono storie di puro interesse, quindi comunque le loro storie mi hanno fatto sorridere, mi hanno emozionata, in un certo senso qualcosa mi hanno passato, non delle morali che faccio mie, per la persona che sono, però sono state delle storie molto molto interessanti. Arriviamo a un'età classifica con le donne che hanno ottenuto tre punti, ovvero, la scrittrice e illustratrice Beatrix Potter, la ballerina Carmen Amaya, la comica e conduttrice televisiva Ellen DeGeneres, l'infermiera Mary Seacol, la matematica Mariam Mirzacani, le combattenti per la libertà Molly Kelly, Daisy Caddyville e Gracie Fields, la regina Nefertiti, l'attivista Ruby Nell Bridge, la poetessa Safo, l'astronauta Samantha Cristoforetti, le ragazze scout Troop6000 e la compositrice e musicista Violetta Parra. Queste donne si trovano a metà classifica perché? Perché fondamentalmente già hanno qualcosa che riguarda la mia vita, hanno già degli interessi che ricadono nell'art, nell'attivismo e via dicendo, alcune, altre invece vivono in ambiti diversi dal mio, ma hanno delle storie che mi hanno in un certo senso ispirato. In generale sono tutte bellissime storie, queste, che ho letto con molto interesse, con molta empatia, tutto sommato, alcune più vicine alla mia storia, quindi ci stiamo sempre di più avvicinando a quelle donne che, in un certo senso, senza che io ne fossi consapevole, mi hanno ispirato, ma non tutte hanno raggiunto questa empatia nei miei confronti, o meglio, non con tutte ho ottenuto questa empatia, perché alcune, appunto, ripeto, sono in ambiti completamente diversi. In generale delle storie comunque molto belle da leggere, che io ho trovato molto vicine a me, ho trovato illuminanti per alcuni aspetti, insomma, in generale, belle storie da mettere a metà classifica, non illuminanti al punto che mi cambiano la vita, o che mi ispirano chissà quanto, ma comunque delle belle storie. Appena più sopra, con tre punti e mezzo, abbiamo l'attrice Audrey Hepburn, la politica Eleanor Roosevelt, la nuotatrice Florence Chadwick, l'artista Marina Abramovic, la spia Matari, la scrittrice e artivista Nadine Gordimer, la rivoluzionaria Pauline Leon, la chimica e specialista in cristallografia RAGX, Rosalind Franklin, la neurochirurga Sofia Ionescu, e la giudice della Corte Suprema, Sonia Sotomayor. Queste storie si stanno già avvicinando molto a quello che io penso faccia di una donna una grandonna, perché queste donne sono donne famose, già di per sé, comunque erano donne che già io magari conoscevo, molte di loro già le conoscevo, e conoscevo già più o meno la loro storia. Ad entrarmi ancora di più in questa cosa, mi ha fatto riflettere su quanto, nonostante queste donne siano diventate famose, magari anche grazie alla loro bellezza, alla loro posizione politica, delle scoperte che hanno fatto magari anche in comunità, comunque non si siano mai dimenticate le loro origini, e abbiano sempre cercato di fare il più possibile per quello che erano loro in principio. Insomma, a me ho apprezzato tanto questo aspetto di crescere, crescere, lottare, lottare, ma di non dimenticarsi da dove si viene. Questa è una morale che mi hanno insegnato tutte queste donne, che mi è piaciuta tantissimo. In più le storie mi hanno emozionato ancora un piazzettino in più rispetto alle precedenti e questo per me ha un valore aggiunto incredibile, dà un valore aggiunto incredibile alla lettura. Io penso che comunque le storie debbano essere interpretate anche in base alla propria vita e queste donne si avvicinano già un pochino di più a quello che è la mia concezione. Siamo quasi in cima alla nostra classifica e andiamo con le quattro stelline di cui fanno parte Agatha Christie, la scrittrice, la tennista Billie Jean King, la musicista Clara Rockmore, l'orologiaia Corrie Ten Boom, la biochimica Gertie Corrie, l'attrice e inventrice Hedy Lamarr, l'apneista sotto il ghiaccio Johanna Norbled, l'attivista per i diritti civili Nadia Murad, l'attivista politica Rigoberta Menchitum e l'attivista Sojourner Truth. Hanno un qualcosina in più rispetto ad altre perché hanno compiuto delle lotte e delle imprese incredibili e questo mi ha fatto pensare tantissimo alla forza che risiede dentro ogni donna. Ogni donna nel momento in cui si prefigge un obiettivo non importa quanto sia grande l'ostacolo che si trova davanti, ma riuscirà a superarlo. È una cosa bellissima, una cosa che voglio fare mia nella vita, una cosa che è propria di ogni essere umano, basta solamente trovarla, trovare quella motivazione che ci porta poi a compiere delle grandi imprese. Queste donne non si sono fatte fermare da nulla, per esempio Clara è riuscita a continuare nella sua carriera di musicista nonostante la perdita di un braccio. Ci sono l'apneista sotto il ghiaccio, ragazzi, c'è un'impresa che a me spaventa tantissimo e che lei invece è riuscita a fare sua. Insomma, sono donne che attraverso le difficoltà che hanno affrontato sono diventate le donne che sono, quindi è una cosa veramente bellissima, mirabilissima, lo stile è bello, comunque sono riuscita a empatizzare molto con queste donne. Ma anche loro non fanno ancora parte, diciamo, dei miei principi di quello che io voglio raggiungere. Sempre più vicini alla cima della nostra classifica, con quattro punti e mezzo, abbiamo la combattente alla resistenza francese André Pille, la cantautrice e imprenditrice Beyoncé, la scrittrice Kimamanda Ngozi Adichie, donna della pista dei giovani bisonti, una guerriera, la sindaca Giussi Nicolini, la scrittrice Mary Shelley, la ginnasta Nadia Comaneci, la scalatrice Purna Malava, la rivoluzionaria Kyujin, e la politica Simone Veil. Singolarmente e onestamente non me le ricordo particolarmente, ma quello che mi ricordo è quello che mi hanno passato, che alla fine è un po' il bello della lettura, cioè non è tanto la storia in sé che te la devi ricordare al dettaglio, ma quello che ti ha passato, ed è il motivo per il quale a volte mi piace rileggere un libro piuttosto che un altro, perché magari so che ho voglia di quell'emozione, quindi so che quel libro me la può dare. A parte questa piccola parentesi random, queste donne mi hanno ispirato tantissimo, nonostante anche loro per alcuni aspetti siano un po' lontane dalla mia vita, però sono donne che non solo erano delle signorine nessuno e sono diventate delle signore qualcuno, ma allo stesso tempo hanno preso in mano la loro vita, anche quando erano in betta alla loro carriera, hanno cavalcato l'onda, ma poi nel momento in cui noi andava bene qualcosa non si sono mai fatte problemi a dirlo per paura di cadere di nuovo in basso dove erano prima. Questa è una cosa bellissima, perché comunque determina il loro carattere forte, il loro lottare continuamente per qualcosa, anche la più piccola cosa che non ti va bene, non devi mai mollare, nonostante tutto ti dica, non lamentarti, vai avanti dritta, perché sei sull'onda del successo, è inutile che ti vai a lamentare di questa, di quell'altra cosa. E invece queste donne comunque, nonostante per alcuni aspetti facilitate o cose del genere, sono riuscite con le loro forze ad arrivare in cima e nonostante ciò, non hanno mai smesso di essere fedeli a se stesse. Ecco, questa è una grandissima morale, mi è piaciuta tantissimo, alcune di queste donne, io le ammiro tantissimo, come per esempio Beyoncé, Mary Shelley, Nadia Comaneci, sono storie emozionanti, lacrimevoli anche direi, che conoscevo già per alcuni aspetti, per il mio lavoro, per le cose che comunque mi piace fare, quindi ecco, siamo veramente quasi in cima alla classifica, perché mi hanno passato una grande emozione, non tanto delle morali in sé, perché comunque abbiamo questa grande morale comune, però delle grandi emozioni assolutamente sì. E arriviamo finalmente alla cima della nostra classifica, con le donne che hanno ottenuto da parte mia 5 punti, che sono, vi ha ricevuto la schermitrice, la regina senza regno Cristina di Svezia, la politica Emma Bonino, l'attivista Gloria Steinem, la ballerina Isadora Duncan, la scrittrice J.K. Rowling, l'attrice Lauren Potter, l'acrobata Madame Saki, Madonna, la cantautrice Donna da Pai, la fisica quantistica e ballerina Merit Moore, la testimone contro la mafia Serafina Battaglia, la docente di zoologia Temple Grandin, e la spia Virginia Hall. Vi dovrò dare assolutamente una motivazione più ampia, per definire queste donne appunto migliori delle altre, ma non è questo il punto, il punto non è rendere delle donne migliori di altre, migliori magari per quello che mi possono passare a livello emotivo, perché sempre di un libro si tratta, si tratta comunque sempre di una lettura, è vero una lettura istruttiva, bella, ma comunque una lettura, quindi io mi sono basata, come ho detto all'inizio, principalmente sulle emozioni che mi hanno passato, e queste storie che vi ho elencato, queste donne che vi ho elencato, mi hanno emozionato alle lacrime, cioè proprio ho letto le loro storie con talmente tanta enfasi, che mi sono ritrovata con la lacrimuccia che scendeva, e si tratta di storie da una pagina, per dire, io leggo di solito libri lunghi, e magari c'è il passaggio triste che mi fa empatizzare, queste storie sono delle storie veramente incredibili, per quanto per alcune si tratta magari del fatto che io le conosca già, ho già letto cose loro, le loro storie e via dicendo, ma principalmente sono tutte donne che nel loro piccolo, leggendo ho detto, cavolo questa è una donna con le palle, assolutamente, non che le altre non ce le abbiano, non so per quale motivo, forse non c'è un vero e proprio motivo, per il quale io mi sia ritrovata molto empatica, nei confronti di queste donne, rispetto alle altre, però queste donne mi hanno veramente passato, non solo delle morali, degli insegnamenti bellissimi, ma anche tante tante emozioni durante la lettura, quindi le dovevo mettere assolutamente in cima alla mia classifica, per un dovere morale verso il mio cuore insomma. Abbiamo concluso con la nostra classifica, ma ci tengo a ribadire che questa non è una classifica, a questa donna è meglio di quell'altra, perché ha fatto questa e quest'altra cosa, io penso che tutte le donne contenute in questa raccolta, abbiano una loro piccola o grande importanza, perché comunque ogni donna ha contribuito, a un passettino in più nella lotta per i pari diritti, che è una cosa che a me sta molto a cuore, infatti alcune donne che si battono per questa cosa, in maniera molto specifica, stanno in cima alla mia classifica, perché è una cosa a cui io tengo tantissimo. È una classifica dettata solamente dall'emozione che mi è stata passata nella lettura del singolo racconto, quindi non in maniera globale, non ho guardato in maniera globale, ho solamente cercato di dare un senso, diciamo, alle donne all'interno di uno stesso voto, insomma, io spero di essermi spiegata bene, non voglio che questo diventi un motivo di offesa per nessuno, o quasi del genere, anzi, fatemi sapere voi, donnine, qua sotto, donnine, omini e via dicendo, quale sarebbe la vostra classifica, se avete letto questa raccolta, fatemi sapere quali sono le donne che vi ispirano di più, che vi hanno passato più emozioni, e ne discuteremo tranquillamente insieme. Se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un like di supporto, se pensate che possa interessare i vostri amici, parenti e conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social, e se volete supportarmi ulteriormente, cliccate sul tasto iscriviti e sulla campanella, per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo domani con Spreferiti di Gio, invece con il prossimo Racconti Secondo Gio, ci vediamo il 21 di settembre, salvo imprevisti come è successo questo mese, che oggi doveva esserci la box review, e invece ci ho messo i Racconti Secondo Gio. Un bacione e ci vediamo alla prossima! Grazie a tutti!